Una bella sorpresa questa sera a Como, in piazza Cavour, il mister Giovanni Colella. Ciao mister, come va? Direi bene, direi bene. Grazie per il saluto, sono qui a fare più passi. Nella tua Como? Sì, è una città che ricordo con grande piacere, è un'esperienza fantastica e ho lasciato tanti amici, quindi è un piacere tornare a salutarli in unità. E adesso sei qui in zona perché sei a Renate. Sappiamo che la situazione non è facile, ma tu sei un duro. Io sono contentissimo di essere approvato a Renate, ho trovato una bellissima società, un gruppo sano. Sono contento e speriamo di riuscire a tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. E un saluto magari ai tifosi comaschi che ti ricordano sempre con grande calore? Se posso permettermi state vicino alla squadra perché è veramente triste vederla in fondo alla classifica, però so che l'unica maniera per venire fuori da queste condizioni è stare uniti, rimanere tutti dalla stessa parte, tifosi, società, squadra. Sono convinto che con grandi unioni di intenti si venga fuori. Domani voi giocherete, sarà il tuo esordio contro Cuneo, quindi partita durissima. Per noi, come per il Como, da ultimi e penultimi in classifica sono tutte durissime. Quindi speriamo bene, dai siamo tutti giocati. Giovanni, tantissimi auguri a parte di noi di Ciao Como, a te e soprattutto in bocca al lupo alla tua nuova avventura. Crepi, vi ringrazio, in bocca al lupo a voi al Como.